Amici del canale Gianluca Rossi TV, un amico, un ex dell'Inter, Ciccio Colonna, questo è il nome d'arte, Francesco Colonnese, questa chiusura d'anno. Ciao Ciccio, come stai? Benissimo, buongiorno a tutti e auguri a tutti. Grazie, auguri anche a te, popolo del mio canale YouTube, popolo, soprattutto interista, felicissimo come sempre di vederti, anche perché Ciccio è uno che ha al di fuori del calcio e quindi non ha tutta quella, sai quelli che parlano, non parlano mai male di nessuno, cioè Ciccio a me piace perché dice le cose come stanno. Allora io voglio partire da una cosa che mi ha molto colpito in una live chat dove ci siamo trovati insieme, perché tu hai criticato da difensore dell'Inter quale sei stato, il modo di difendere di oggi e hai detto una frase pazzesca secondo me, io voglio aprire con questo, tu mi hai detto io quando prendevo gol dal mio attaccante, vuoi proseguire tu? No, io ho detto questo, ho detto che l'evoluzione di questo calcio cambiato ha portato a perdere in più che mai proprio nei difensori la vergogna di rendersi conto che quando prendeva un gol era poteva essere colpa tua, perché adesso il difensore quando prende un gol non si sa mai di che è la colpa, perché? Perché non c'è più un'attenzione particolare sull'avversario, c'è poca consapevolezza del ruolo, si cerca di snaturare i difensori chiedendogli cose che non sono da difensori e quindi il difensore perde il DNA che è quello di essere un giocatore che è sporco, cattivo, come dico io, che si alzava le maniche e doveva tempestare mentalmente, moralmente e anche fisicamente l'avversario, perché ai tempi nostri era così, il difensore forte è quello lì, quello che non ti dà il respiro, che toglie tutte le sicurezze alla squadra avversaria, agli attaccanti della squadra avversaria, è un po' quello che abbiamo visto ai mondiali, perché insomma i mondiali sono stati la dimostrazione dove un po' la specificità del ruolo è venuta, si è rivista, perché i portieri forti erano quelli che paravano, non quelli che sapevano calciare, stupare la palla e lanciare, erano quelli che paravano, il portiere dell'Argentina ha fatto vincere il mondiale perché ha fatto una parata strepitosa all'ultimo secondo, quindi era bravo tra i pali a parare, non sapeva calciare, perché la prima cosa che gli chiedono adesso è, no ma sa calciare, ma c'è una vergogna, come difensori, anche quelli dell'Argentina erano difensori agguerriti, difensori fastidiosi, sia Romero, che Ottamenti, che Alessandro Martinez, erano giocatori che cercavano di difendere la porta, come i centrocampisti, sapevano fare entrambi le cose e gli attaccanti dovevano fare gol, quindi secondo me si è vista finalmente e mi auguro che tanti allenatori che lavorano nel calcio, tanti addetti ai lavori capiscano che noi italiani dobbiamo ritornare a questa specificità del ruolo e allenare molto di più in maniera individuale i giocatori e non sempre di reparto, perché quando alleni i giocatori di reparto non sai mai, non capisci mai di chi è la colpa e ripeto, perdi l'aggressività che il difensore deve avere. Tu hai detto io quando prendevo gol dal mio attaccante mi vergognavo, oggi tu hai la sensazione che sono tutti lì fighetti a dire no, beh, dovevamo difendere di reparto, dovevamo... Perché il difensore adesso scappa sempre, il difensore non è mai addosso all'uomo, non è mai un'aggressività forte sull'uomo, cerca sempre di... cerca poco l'anticipo, cerca sempre con questo calcio cambiato, è un calcio di posizione, il giocatore si mette sempre nella posizione per cercare di temporeggiare, di non farsi saltare, ma il difensore forte è quello che non si fa saltare ma va lì addosso, l'anticipa, perché non lo faceva, faceva fare il passaggio meno pericoloso per la tua squadra, è più facile per la squadra avversaria dare il passaggio dietro, cioè non gli dava la possibilità di puntarti o meno, tanto meno sapeva che era dura, sapeva che insomma quel giorno lì quando giocavo con difensori di quel livello lì doveva essere dura, non era facile come adesso, perché ripeto, quello che mi fa impazzire e che vedo una facilità in area di rigore di gol facili, che io nella mia carriera, insomma, anch'io ho sbagliato, ma ho preso dei gol da attaccanti che erano più bravi di me, che mi hanno fatto dei gran gol, non dei gol a porta vuota perché il difensore non c'era o perché il difensore guardava la palla, insomma, robe e robe veramente che ti fanno impazzire e dove, ripeto, secondo me chi lavora nel calcio ci deve lavorare individualmente e non di reparto, perché ormai si lavora sempre di reparto e non è come una volta che ti mettevano, ai tempi miei di Bergamo e di tanti altri difensori, ti mettevano testa e testa con un uomo davanti e tu devi imparare a saltare, devi imparare a anticipare, è la stessa cosa che adesso si fa di reparto e tu la facevi individualmente. Cioè, il difensore, insomma, Ciccio sta dicendo, il portiere deve parare, il difensore deve difendere, cazzo è facile, non è una roba… Senti, ma hai sentito cosa ha detto Verona di te? Hai sentito cosa? Cioè, Verona ha detto tra i difensori più forti contro cui ho giocato Ciccio Colonnese, ma ti sei sorpreso? Mi sono sorpreso perché, insomma, a sentirsi dire da un giocatore di sublime valore come Sebastian Verona, insomma, che è stato mio compagno, ma non ero un giocatore che potevo mai pensare che potesse fare una dichiarazione, già è stata inaspettata, infatti quella mattina mi è arrivato l'articolo da parte di amici, mi ha detto, ma hai visto cosa ha detto Verona? Occhiamalo! Sì, l'occhiamalo, gli ho scritto ieri, lui mi ha detto la verità, ma soprattutto perché l'ha detto in una partita dove mi ricordo bene che Verona giocava, che sai, dice, ma come mai Verona lo marcava a Colonnese? Perché Verona era un centrocampista, soprattutto un centrocampista da playmaker, insomma, invece quella gara lì, Verona giocava un po' più alto, giocava con Montella, dietro Montella, quindi mi ricordo benissimo, a Sampdoria, Sampdoria mi ricordo benissimo, quel giorno lì mi ricordo benissimo che lui disse non mi ha fatto Cappala, ma io avrò fatto, non so, dieci chilometri a girare il dorso perché mi portava in giro per tutto il campo, ero spinito a fine parte, vincemmo tre a zero, ma ripeto, me la ricordo bene perché prima della gara Simone mi disse oggi ti dovrai sacrificare, ecco vedi la parola sacrificare, anche che adesso non c'è più, ti dovrai sacrificare perché sai benissimo che se oggi marchiamo bene Verona, la nostra squadra è un punto avanti, possiamo vincere la gara, ed è quello che ripeto non c'è oggi, quando si gioca con degli avversari come oggi, molti giocatori non capiscono che un'attenzione particolare, ferrea, quasi maniacale dei difensori sugli attaccanti fa sì che forse un punto avanti la tua squadra può stare, se lo marchi bene. Senti Ciccio, il tuo discorso, questo discorso che hai fatto mi fa venire in mente all'Inter, tanti gol stupidi che hanno preso i difensori dell'Inter, tu sei un ex dell'Inter, ma sei un ex anche del Napoli. Allora ti dico, siccome il campionato ricomincia con Inter-Napoli, in base alla tua esperienza da doppio ex, e quindi so che parli da addetto ai lavori, quanto è importante questa partita, ma non fermiamoci a questa partita perché c'è una cosa nuova quest'anno, sei stati fermi e lo sai benissimo, sei stati fermi praticamente più di un mese per i mondiali, c'è la possibilità di vedere un altro campionato a partire da Inter-Napoli o no? Lo vedremo, non lo so, perché non c'è mai stata una sosta così lunga, quindi nessuno può dire, lo vediamo domenica, lo vediamo mercoledì, che tutto questo tempo fermi, vediamo come arrivano i giocatori, vediamo mentalmente se le squadre sono pronte già per le prime gare così importanti e sicuramente la partita di mercoledì è una partita fondamentale per capire se il Napoli è davvero la squadra che è la schiaccia sassi del campionato oppure non è così, molto 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 facile che insomma ripeto sarà una gara molto combattuta perché secondo me l'Inter sa benissimo che non può sbagliare, sa benissimo che deve giocare una partita di alto livello dal punto di vista tecnico e dal punto di vista agonistico e quindi mi auguro che insomma ci sia un'attenzione particolare in questi, proprio in queste cose che ho detto io perché insomma con Osimène da una parte, con Fravash, Kelly, insomma giocatori che se gli lasci un po' di libertà ti fanno male ci vorranno veramente una grande concentrazione difensiva e poi dico che la qualità dell'Inter in mezzo al campo se dovesse insomma giocare con tutti quei giocatori bravi che ha insomma la scelta è importante, l'Inter può fare un'ottima gara Senti Ciccio io ti ringrazio moltissimo perché è sempre un grande piacere sentirti anche per la tua onestà e tutti dicono no adesso ve lo dico io come va al campionato in realtà è impossibile, nessuno lo sa perché è una situazione nuova che non si è mai verificata No ma perché c'è stato giusto, c'è stata tanta pausa, le squadre hanno fatto le preparazioni nuove sicuramente quindi vediamo che è stato più bravo a prepararsi bene per questo inizio di campionato. Senti comunque io a nome dei miei follower del canale Gianluca Rossi TV ti ringrazio, ti faccio i migliori auguri di buon anno tanto io e te ci sentiamo regolarmente e me ne vado con questo messaggio da consegnare ai moderni difensori. Ragazzi dovete tornare a provare vergogna quando prendete un gol e difendete, santo Dio fate quello per cui siete nati storicamente, quello che faceva straordinariamente il mio amico Ciccio Colonnese. Difendete, difendete, difendete. Difendete la porta perché se difendi la porta sicuramente hai possibilità di vincere. Ciccio tanti auguri e grazie per questo straordinario come sempre collegamento perché sei uno che dice le cose come piacciono a me, belle e chiare. Ciao Ciccio ti voglio bene. Ciao Gianluca, ciao, saluto a tutti. Ciao, ciao. Grande Ciccio Colonna, ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao.